Un'assemblea aperta a Roma il prossimo 8 settembre, poi una manifestazione già in calendario per il 5 ottobre. È il momento dei fatti, dicono il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini, e i giuristi Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelski. Perché in Italia, e non da oggi, c'è un problema di democrazia costituzionale che si è venuto aggravando negli ultimi tempi. A luglio, ha detto Landini, abbiamo assistito a cose un po' strane. Un'azienda, la FIAT, che continua a non applicare le leggi di questo Stato in materia di libertà di scelte sindacali, nonostante una sentenza della Corte Costituzionale, e un condannato che ad una sentenza risponde con una manifestazione di piazza. Due logiche diverse che rendono evidente cosa significhi non applicare la Costituzione. Vogliamo rivolgerci, ha detto Zagrebelski, intervenendo per telefono a tutti quelli che pensano sia arrivato il momento di mobilitarsi, opponendosi ai tentativi di stravolgere le procedure di revisione della Costituzione. La nostra preoccupazione è aggiunto innanzitutto per i milioni di cittadini che, non credendo più alla politica degradata, stato di necessità, secondo il mantra non ci sono alternative, si distaccano dalla democrazia. Politica che bisogna rivalutare, secondo Stefano Rodotà, e non impigliarsi in polemiche che dividono. Non è una partita tra Berlusconi e Napolitano, è una questione che riguarda che cos'è la politica in questo momento nel nostro Paese. Poi però ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità di trovare soluzioni per assicurare l'agibilità politica di Berlusconi risponde figuriamoci, si devono rispettare le sentenze, poi è la politica che deve fare la sua parte. Non si possono manipolare le istituzioni.